A Nangrigento, liceo scientifico e delle scienze umane politi, si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni che si sono maggiormente distinti agli scorsi esami di maturità. È stata inoltre assegnata la terza edizione del premio Cittadinanza Attiva 2018 a coloro che si sono distinti per senso civico, assunzione di responsabilità e spirito solidale. È un premio che comunque non è solo dei ragazzi, dico io, è anche di tutto il contesto, è delle loro famiglie, dei docenti che li hanno accolti, che li hanno seguiti e che hanno colto il loro valore. Questa mattina noi anticipiamo le festività natalizie come di consueto con questa cerimonia bellissima che è il nostro fiore all'occhiello, è la cerimonia delle eccellenze. Durante la cerimonia noi intentiamo innanzitutto valorizzare il merito, quindi abbiamo invitato i nostri 24 alunni che si sono distinti con il massimo del punteggio e il 100 negli scorsi esami di Stato. Quindi abbiamo invitato loro che riceveranno una targa e poi abbiamo un premio giunto alla terza edizione che si chiama premio Cittadinanza Attiva. Questo premio quest'anno sarà rivolto ad una classe, eccezionalmente ad una classe piuttosto che ad un singolo allievo che si è distinta per senso di responsabilità, maturità e ha fatto anche un lavoro grandioso in questi quattro anni con un compagno diversamente abile che hanno in classe, quindi noi abbiamo sentito davvero il piacere di riconoscere questo premio, questo riconoscimento proprio alla classe quarta B dell'indirizzo scientifico. Grazie a tutti.